Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Caos totale a Piazza Pulita, dove è andato in scena uno scontro tra il conduttore Corrado Formigli e un ospite. E proprio quest'ultima ha clamorosamente abbandonato lo studio della trasmissione di La Sette e le immagini sono diventate virali in pochissimo tempo. Il filmato è stato infatti postato su X, ex Twitter e in tantissimi hanno visto quanto successo in diretta. In più di una circostanza ci sono stati scambi di vedute diversi e alla fine è successo l'irreparabile. La donna, stanca della situazione creatasi a Piazza Pulita col giornalista Corrado Formigli, se n'è andata. L'ospite si è alzata e ha lasciato lo studio tra lo stupore di tutti. Polemiche a non finire da parte di lei, che ha fatto anche rimanere senza parole e perplesso il conduttore, il quale non ha sempre ben capito cosa volesse intendere. L'apice della crisi in studio si è registrata, quando il programma ha dovuto rinunciare alla sua presenza. Dunque, partendo dall'inizio della discussione, l'agenzia di stampa ADN Cronos ha ricostruito nei dettagli la vicenda. Durante Piazza Pulita, trasmessa nella serata del 12 ottobre, Corrado Formigli e questa ospite hanno avuto incomprensioni. La donna ha esclamato, credo in un giornalismo che non fa spettacolo ma che cerca risposte. Lei dovrebbe domandarsi cosa si può fare per i bambini di Gaza che moriranno domani. Si può fare che i grandi paesi europei, invece di proibire le manifestazioni pro-Palestina, potrebbero chiedere l'apertura del valico con l'Egitto. A parlare della guerra tra Israele e Palestina e ad infiammare gli animi in studio è stata l'ex ambasciatrice Elena Basile, che è anche una scrittrice. Lei ha continuato, se ci sono 200 ostaggi, dovremmo dire dobbiamo salvare gli ostaggi perché in cambio Israele prometterà di non bombardare le case. La donna ha zittito anche Mario Calabresi, dottor Calabresi, ora parlo io. Poi Formigli ha tentato di aggiustare il tiro, ma a quel punto lei ha lasciato lo studio di Piazza Pulita. Elena Basile ha concluso così il suo intervento, io me ne vado, non mi calmo se penso ai bambini di Gaza che stanno aspettando di morire mentre stiamo qui a disquisire se Amas sia un'organizzazione terroristica e se Israele debba rispettare le regole. Non è una questione giuridica, è una questione politica. Lei mi ha pregato di venire qui, altrimenti non sarei venuta. Grazie E il presentatore l'ha congedata così, per me è stato un piacere.